Pronti, ripartenza, via! Il titolo alla fase 3 del Bari, che si mette alle spalle in lockdown e punta con decisione ai play-off, lo lancia sui social Simone Simeri. Con la ripresa degli allenamenti di gruppo, successiva all'esito negativo della seconda tornata di tamponi e test sierologici, l'attaccante napoletano a segno 10 volte in stagione è tra i protagonisti più attesi nell'organico a disposizione di Vincenzo Vivarini. Se Simeri condivide la copertina con Mirko Antenucci, 20 centri nei primi 30 turni di campionato, Karim Laribi, due golle e altrettanti assist dal suo arrivo in rosa a metà gennaio e con pilastri come capitani Cesare, Bianco, Ciofani e Maita, c'è un poker di Biancorossi che guarda i play-off come l'occasione per dare un senso a una stagione in chiaroscuro, in un momento in cui la panchina lunga può fare la differenza. Lo guida Michael Foloruncio che non ha confermato in bianco-rosso quanto di buono fatto vedere nei due precedenti campionati con la Virtus Francavilla. L'infortunio al ginocchio di inizio stagione ha condizionato l'ex laziale ricomparso nei radar di Vivarini a febbraio. Non è ancora andato a segno in stagione, ma il suo tiro dalla distanza potrebbe essere un'arma di cui tener conto. Nel reparto mediano, qualche passo più avanti, c'è Giovanni Terrani. Arrivato in estate, come variante di qualità per fasce tre quarti, l'ex Perugia e Piacenza è fermo alle due reti segnate contro Vibonese e Potenza nel 2019 e non parte titolare dal 19 gennaio contro i Rieti. In prestito biennale dal Napoli, come Foloruncio, c'è Eugenio Dursi. Dopo le 14 reti con la divisa del Catanzaro l'anno scorso, l'attaccante numero 17 è stato condizionato da un lungo e fastidioso infortunio e il suo bottino è fermo sin qui alle due reti segnate contro Sicula, Leonzio e Viterbese, entrambe in trasferta e in pieno recupero. Chi punta gli spareggi promozione, come un'occasione per ampliare la bacheca, è Manuel Scavone. Tornato a Bari quest'anno, ha già conquistato in carriera quattro promozioni, è salito in C1 con il Sud Tirol nel 2010, con il Parma ha ottenuto due salti di categoria dalla C alla A tra il 2017 e il 2018, mentre nel 2019 è arrivato in A con il Lecce e oggi sogna di toccare la B in bianco-rosso. Di scontri diretti, come i tre che il Bari affronterebbe dai quarti di finale, momento dell'ingresso in tabellone il 13 luglio, il centrocampista 33enne se ne intende, tre anni fa andò a segno nella finale contro l'Alessandria che spedì il Parma in B. Foloruncio, Terrani, Dursi, Scavone, tutti pronti ad azzerare l'annata per farsi trovare pronti al momento giusto.